Non è bastata la buona partita e un gol ad evitare la sconfitta per 2 a 1, la seconda in due giornate al football club Matese, ci si è messo anche un rigore sbagliato da Napoletano a complicare poi tutto, una giornata da cancellare, un 2 a 1 troppo pesante per quello visto in campo. Noi abbiamo sentito a fine gara il mister Perrotta del Matese, poi il presidente Riga e la nostra Rossella Sasso e invece è andata a sentire l'allenatore della Florida del Grosso. Allora mister, sul piano del gioco probabilmente nulla da rimproverare, non siamo riusciti a mettere il pallone dentro, poi quel rigore è sbagliato. Sì, secondo me abbiamo fatto una buona gara, era ammarico al di là del rigore, però insomma abbiamo avuto più di qualche occasione, la partita l'abbiamo fatta bene, c'era ammarico che loro hanno avuto tre tiri in forza e ci hanno fatto due gol, questa è un po' la vita, noi credo che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo anche creato il prima del gol loro, molto evidentemente abbiamo avuto un'occasione importante noi e alla fine purtroppo è andata così. Mi dispiace perché secondo me i ragazzi hanno dato tutto e hanno fatto una buona gara sconfitta secondo me. Due partite, due sconfitte, da dove si riparte? Ma si riparte da questa, secondo me buona prestazione, da questa voglia che i ragazzi ci hanno messo fino alla fine di far risultato e si parte da questa, è chiaro che poi a oggi per fare dei risultati dobbiamo essere ancora più bravi sotto certi punti di vista, dobbiamo sicuramente curare anche più i particolari perché in questo momento è chiaro che abbiamo bisogno anche di quello. Prossimo impegno, tenuto conto delle due sconfitte, l'aspetto psicologico? Eh niente, ci sta nel calcio che si può partire anche male, magari dobbiamo essere bravi adesso a tirarci su perché abbiamo tutte le possibilità, siamo all'inizio del campionato insomma. Presidente, allora ottimo secondo me il gioco espresso, però purtroppo il risultato, quando non arrivano i gol si rischia di perdere come è successo oggi, da dove dobbiamo ripartire? Ma io non voglio prendermela con nessuno dei calciatori perché i giocatori sicuramente hanno fatto una buona partita, purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa, bene così quando fai fatica a tirare in porta, fai fatica a creare occasione da gol, dopo capita che in Serie D arrivano squadre che magari con un contropiede, due contropiedi ti mettono K.O., come è successo a noi, ma ripeto, non ho nulla da rimproverare ai giocatori, credo che la squadra sia un'ottima squadra, la nostra, perdiamo anche oggi due risultati che non ci aspettavamo onestamente prima di inizio del campionato, però andiamo avanti, andiamo avanti, continuiamo a lavorare, la società ha visto la partita, non siamo cechi Prossima gara? Prossima gara credo sia Pineto, contro probabilmente la squadra più forte del campionato, però cerchiamo di andare con lo spirito ritrovato, qualche giocatore in più e cercare di fare qualcosa di meglio Fiducia all'allenatore? Personalmente preferisco non rispondere a questa domanda Mister, quattro punti in due gare, merito vostro o de merito del Matese? No, merito nostro sinceramente, anche perché sapevamo che questa squadra è pronta specialmente in casa all'aggressione, sapevamo che venivamo qua, loro poi domenica avevano anche perso, perciò un dente avvelenato in più, sapevamo, siamo stati bravi a non farci nervosire, a cercare di non buttare palla, che è la cosa più semplice quando viene in un campo del genere e loro andavano a ricercare la seconda palla, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo provato durante la settimana, le uscite col pressing alto, sapevamo che il campo è molto stretto rispetto al nostro, perciò sono riuscite le giocate, anche se qualche giocata non ci è venuta ma per de merito nostro, perché tutte le ripartenze, tre che ne hanno avute loro specialmente, è stato per de merito nostro quando uscivamo, però devo dire che dall'altra parte ha dei giocatori importanti, forse oggi mancava anche qualcuno, ne posso dire uno su tutti oggi che è ricamato, io ho detto ai miei uomini, ai miei ragazzi di stare molto attento perché è un giocatore che fa almeno 7-8 gol durante l'anno ma tutti in inserimento, ce l'ho avuto ad Agnone, perciò so quello che può dare e ho cercato di schermarlo parecchie volte, ci siamo riusciti, poi loro hanno anche un play molto bravo, perciò abbiamo lavorato molto sulla nostra costruzione e cercando di non far ripartire loro. Allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso e Rossella Sasso per casertasera.it Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.